Stasera non ho pescato niente, ma rincaso con una rara emozione. Mentre leggevo la mia canna, un martin pescatore ci si è posato sopra. Non esiste uccello più sfolgorante. Pareva un gran fiore azzurro, in cima un lungo stelo. La canna si piegava sotto il suo peso, io trattenevo il respiro, orgoglioso di essere scambiato per un albero da un martin pescatore. E sono sicuro che non è volato via per paura. Ha semplicemente creduto di passare da un ramo a un altro ramo.